La Corte Costituzionale ha esaminato oggi le questioni di legittimità sollevate al Tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana in relazione alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposta dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo. Le questioni avevano ad oggetto la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a determinati importi, parliamo del cosiddetto raffreddamento della perequazione e la decurtazione percentuale per cinque anni delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi, nota come contributo di solidarietà. In attesa del deposito della sentenza è stato emanato il seguente comunicato stampa. La Corte ha ritenuto legittimo il raffreddamento della perequazione in quanto ragionevole e proporzionato. Ha ritenuto legittimo anche il contributo di solidarietà, ma non per la durata di cinque anni, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato. Pertanto il contributo rimarrà operativo per tutto il 2021 e non oltre. La sentenza sarà depositata nella prossima settimana. Grazie a tutti.